Due successi su due. Il piccolo amplain di Valeriano Loseto è compiuto, anche se il sogno sarebbe sbancare pure Andri a domenica prossima. Ma intanto c'era da vincere in terra campana e proseguire la risalita verso i quartieri nobili della classifica del girone H di Serie D. Infortunato si è di improvviso l'insostituibile Petta, il mister barese vara una inedita cintura difensiva a Biason di Cecco Colella, che dovrà per sopramercato ridisegnare dopo la mezz'ora per l'acciacco inopinato del centrale. Toccherà la classe infinita del sudamericano sopperire in corso d'opera l'assenza di Mimmo. In mediana menar le danze un rigenerato capece e un arguto montinaro e l'opinion annola da una parte e il gladiatorino ubiquo Mariani dall'altra. Davanti il fantasista attascabile Taurino a svariare dietro Capitano Lattanzio. De Stefano da par suo risponde con i navigati Varchetta e della corte a presidio della difesa, Gallo e Cassandro a far gioco per la fantasia di Chianese e il vigore di Simonetti. Dopo le prolungate fasi di studio le sciabolate. Subito un capolavoro, minuto 11, Simonetti stacca Imperioso e schiaccia fil di palo, Figliola si esibisce in un balzo felino d'autore e respinge. Due minuti dopo Lattanzio serve Caruso che impicca un destro centrale facilmente leggibile. Al ventitresimo il gol che decide il match e al contempo sgomita per trovare posto nel Louvre del calcio. Consueto corner arcuato di Montinaro, sfera che galleggia al limite dell'area, artistica mezza girata volante di Taurino, folgora lo sventurato Papa. La coppia ci riprova subito dopo la mezz'ora, angolo del primo e tuffo del secondo, fuori di nulla. I leoncelli controllano il vantaggio senza fatica anche nella ripresa. Al terzo l'ispirato trequartista mette nel mirino l'incrocio sinistro della porta di Papa che con un volo d'Angelus verrebbe fatto di dire sventa. 60 secondi e il tacco di Milani sul tiro da fuori non inganna l'estremo di casa. Minuto 10, la fragile reazione dei padroni di casa è tutta in aiello per Simonetti che in acrobazia artiglia in preciso la sfera. Poco prima della mezza, splendida punizione di Capece che sorvola di un soffio la traversa. Al primo di recupero sempre il regista Bitontino cerca Palazzo che spizza il cuoio facile facile tra le braccia di Papa. I leoncelli annunciano così ai rivali del torneo che ci sono e sono pronte a tutto.